Ultimi giorni per visitare un'esposizione unica nel suo genere che presenta le opere di Mario Dolfi, un personaggio molto noto a Sansepolcro ma che per la prima volta arriva ad esporre in una personale. Sì, è la prima volta, diciamo, è un personaggio ben noto Mario Dolfi. Mario Dolfi è un personaggio caratteristico di Sansepolcro, tant'è che il fotografo messicano Riccardo Mendez Pastrana lo ha inserito nei personaggi ritratti nell'Arsomiglio del Borgo e pur essendo così noto e così conosciuto a Sansepolcro, tutti sapevano che dipingeva, non aveva mai realizzato una mostra personale. Bisognerà risalire a qualche anno fa quando partecipò a una collettiva denominata Il Ritratto e tra le autrici di quella collettiva c'era la Lucilla Burroni ma la collettiva venne realizzata nella galleria di Ugo Agostinelli e per trovarlo in mostra, altrimenti c'erano dei luoghi pubblici dove poter vedere l'arte di Mario Dolfi ma non c'era opportunità di avvicinarsi così bene come è stato possibile in questi giorni. Fino al 18, quindi Mario Dolfi espone la sua arte surreale con personaggi senza volto, con chiavi volanti, con oggetti volanti non identificati. Si potrebbe dire che Dolfi è il più originale dei pittori di Sansepolcro. Infine bisognerà dire che ci voleva veramente Fabrizio Innocenti per portare Mario all'esposizione perché c'è stato un lungo lavoro da parte di Innocenti a convincerlo e la mostra fortunatamente nasce sotto tutti i migliori auspici perché c'è dentro l'associazione Franco Alessandrini, c'è dentro la compagnia artisti e il comune di Sansepolcro e tanti sponsor ed amici che hanno contribuito all'ottima riuscita di questa manifestazione.